Lo spirituale ha sempre anche bisogno di espressione e quello che noi vediamo qui, venendo anche da tutta Italia e raccogliendo tanti produttori, perché è chiaro che è anche un mercato, ma che non è mai soltanto qualcosa di commerciale, c'è sempre una dimensione superiore, se manca quella superiore resta soltanto una dimensione commerciale molto pericolosa. Credo che anche da parte della Chiesa di avere attenzione per questo e quindi di chiedere un livello di preparazione, di formazione, di richiesta e quindi anche di offerta che garantisca una dimensione spirituale così necessaria sempre, anche nella nostra generazione, per capire, per vedere, per intuire, per mostrare il mistero di Dio.